presentati ciao sono Nicole del Pavero, ho 21 anni e abito a Sairano in provincia di Pavia cosa fai nella vita? nella vita studio comunicazione a Pavia e lavoro quest'anno in piscina, ho lavorato anche in villaggio ti sei mai esibito in pubblico? si, tutti gli anni faccio un stagio di fine corso di danza e di canto comunque ho partecipato a diversi eventi come cantante hai mai lavorato nel mondo dello spettacolo? ho lavorato nel mondo dello spettacolo insieme a Rai come comparsa in piloti se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? se ne avessi la possibilità direi che canterei, vi canterò una canzone che si intitola True Colors you with the sad eyes don't be discouraged or realizing hard to say colors in a world full of people you can lose sight of it all and darkness still inside you make you feel so small but I see our true colors shining through I see our true colors that's what I love you so don't be afraid to let them show you true colors, true colors are beautiful like a rainbow fai un appello al pubblico per farti votare ragazzi, signori, signori, bambini, tutti votatemi, mi raccomando wow